Non è successo soltanto a Manhattan, è stato un incidente dello stesso genere anche a Long Island. No, andiamo dottore, non ci credo. Insomma, non vorrà farci credere che è una specie di malattia che si sta diffondendo per il paese. È come una droga, mi rendo conto che è difficile da credere, anche e soprattutto perché non ci si vuole credere. Ma questa è la realtà. Ma allora ci deve dire anche se esiste un sistema per scampare all'epidemia. Dottore, ma prego se è un sistema procedente a questo. Dottore, non ci abbandoni. Presa, signore. Se non potessi oggi nulla al mondo, si farei con più piacere. Purtroppo non posso. Vesta bene. Carga, non ci interimento. Non abbiamo certezza di nulla. Va bene, dottore, ho capito. Allora mi dia una pistola, spero di avere il tempo di soltare. Cos'era? Eh? Ho visto... ho visto... Lo mostro, non aspetto. Non lo andiamo, che hai visto? Lasci vedere. Niente. Non lo andiamo. Non lo andiamo. Non lo andiamo. Non lo muova È vivo? Non lo so Non si muova, vado a prenderle una coperta Non si muova Non ci riesco Non mi lasciano andare Ma non era ferito Su, andiamo Avviseremo la polizia alla prima città Sta bene?